Ma tu tremi? Stai male? Parla che c'è, Dio mio, posso fare qualcosa per te? Ti amo, Max, ti ho sempre amato, ti sopplico cosa posso fare per te? Fala mia una sega! Tu sei stanco di me, Max, che c'è? E' un miserizzo a più. Che caldo fa qui? Non cazzo fare un ghiacciolo. Dai Marchese... Che ti prende, Max? No. Che cosa ho fatto? Eh sì, vado ai mutanti gonfie, la una figa fare un cazzo. Max! Mi voglio per te, Max. Una che avrei nemmeno. O che è la bella tromba? E ora la ritromba. L'ha detto i casalieri. La tromba tre volte. Max, per l'ultima volta. Il mio corpo non va a capire, prendimi, sono tua. Tu, Max, prendimi, Max, prendimi. Magda, Magda, non posso. No, ma la vattene. No, allora le buco, eh, oh, Finocchiaccio. Lei è colmo, ragazzi, questo è il film. Maxi donnaiolo, Maxi bucaiolo, vedi? Fa un film con il protagonista Finocchio, le maleducazioni del popolo italiano. O siediti, facci un bel esito. Esito? Eh, esito, non gli si rizza, che tu vuoi vedere. Poi, no, poi io bocio quanto mi pare. C'è mica scritto attori parlanti, spettatori silei. E sta un pochino assicurato. Io posso parlare con tutti. E' stato un pochino, vediamo come va. Ma che dici? Vattene, Magda, ripeto. Ma vaffanculo. E silenzio. E silenzio, sto fatti, coglione. Io davanti ho fatto il posto quanto mi pare. In quanto sono nel diritto del cittadinanza di non poter piacermi qualsiasi firme. Capito? Qualsiasi. Specialmente se è il protagonista del Pinocchio. Capito? Ho capito, sai perché ti piace, ti piace il firme. Come gli piace, guarda. Ho belle camicia. E magari è difficile. Fatti un segno io. Uè, sono riguardo. Ci va? Ci sono più a posto, sono po' di guardare mia. Io sono proprio in parola, entri un bubbero. No, 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 no. Che poche settimane di vita. Nooo! 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 Forse una firma per chiedere su sorella. Nooo! Che scelta? Lei era una sua sorella? Lei era intitolato Maxi Parente, non Maxi Donnetto. Nooo!